Pescara potrebbe diventare la capitale italiana del libro. Il progetto presentato dal capoluogo adriatico e tra gli otto finalisti è frutto di una sinergia tra pubblico e privato, ci spiega l'assessore Paoni Saccone. Il progetto che abbiamo presentato è la città libro, è un progetto molto importante e innovativo che coinvolge anche dei partner che ci hanno aiutato e che ci aiuteranno poi se dovessimo vincere a mettere in atto quello che è stato scritto nel progetto presentato nel dossier che è stato presentato al Ministero. Noi siamo fiduciosi, incrociamo le dita e speriamo di raggiungere questo risultato che è un risultato strabiliante e molto importante perché Pescara è già una città che legge, una città dove tantissime associazioni, tantissimi privati richiedono di poter utilizzare gli spazi che sono messi a disposizione dall'amministrazione comunale per organizzare proprio degli incontri di lettura e noi proprio su questo abbiamo puntato, abbiamo puntato sul fatto che Pescara è una città viva proprio sotto questo aspetto della lettura. L'11 febbraio il progetto sarà presentato davanti alla Commissione e poi si proclamerà la città vincitrice. La capitale del libro riceverà da Roma mezzo milione di euro. Il progetto prevede per chi dovesse vincere un contributo di 500 mila euro per utilizzare proprio per implementare la letteratura a livello cittadino e noi siamo pronti per questo. Il Comune ha previsto un cofinanziamento di 110 mila euro e quindi al termine se si dovesse raggiungere questo obiettivo dovremmo avere a disposizione 610 mila euro per mettere in atto tutto quello che è stato progettato nel dossier presentato al Ministero.